ciao a tutti sono mattia bentornati sul mio canale oggi accolgo una richiesta che mi è stata fatta più volte cioè di parlare di goggles economici come saprete io utilizzo fat shark e consiglio sempre fat shark a chi vuole qualcosa di definitivo ma capisco che la spesa sia abbastanza alta per un paio di goggles top gamma come i fat shark e quindi all'inizio non vale la pena probabilmente spendere così tanto con magari l'idea di non continuare quindi ho provato in realtà nel tempo vari modelli e ho provato anche la versione precedente di questi ishing e v800 sia gli normali che id e ora vi mostro i nuovi ishing e v800 dm sono secondo me a livello rapporto qualità prezzo tra le migliori proposte se andiamo a vedere i goggles boxed e boxed cosa significa o meglio è un modo di definirli però sostanzialmente rispetto ai fat shark e ai goggles di quel tipo lì invece di avere uno schermo per ogni occhio avete uno schermo grande unico e una lente che vi permette di mettere a fuoco quello che vedete in questo schermo sotto una certa soglia di prezzo che direi in circa dei 150 euro non ha senso andare a puntare sui goggles con i due schermi l'esempio lampante sono gli evi 100 che sono stato un prodotto pessimo dal mio punto di vista e tutti quelli che con cui ho volato assieme che li hanno provati li hanno definiti pessimi dopo aver provato qualcos'altro ovvio che se uno non ha mai avuto la possibilità di provare qualcos'altro se li fa andar bene ovviamente si può fare tutto con tutto però sotto i 100 euro l'opzione migliore sono sempre stati per me gli evi 800 per una caratteristica che avevano cioè che era possibile anche staccare la parte dello schermo e usare lo schermo senza il goggle questo permetteva di riciclarli una volta che passati a dei goggles di qualità superiore non utilizzate più i goggles con cui avete iniziato il prezzo è sempre stato in circa dei 70 80 euro con id che erano più verso gli 80 e ora però hanno cambiato il sistema e hanno cercato di rispondere alle richieste di molti utenti facendo due modifiche sostanziali anzi tre al sistema degli evi 800 non c'è più la possibilità di staccare lo schermo per utilizzarlo come schermo a parte però è stata aggiunta la possibilità come vedete di allungare o accorciare il goggle questo cosa vi permette di fare vi permette di mettere meglio a fuoco l'immagine soprattutto se non avete una vista perfetta l'ho provato questo meccanismo la differenza è lieve tra la massima estensione e la minima anche perché cambia di 5 mm ma a volte fa la differenza tra il vedere l'osd ben a fuoco o non vederlo altra modifica è stato allargare la maschera questo vi permette di poter entrare nei goggles con gli occhiali e in base anche alla montatura vi incastrate più o meno bene all'interno dei goggles ma anche con i miei occhiali ci sto è stato allargato bene il naso per adattarsi ai nasi di noi europei che sono mediamente più grandi di quelli asiatici e secondo me la modifica fondamentale rispetto a tanti altri goggles di questo tipo lo schermo non è un 16 noni ma è un tre mezzi tre mezzi è una misura che si avvicina molto ai quattro terzi quindi quando voi andate a vedere il feed di una cam quattro terzi le proporzioni rimangono abbastanza corrette mentre se voi andate a utilizzare una cam quattro terzi su dei goggles 16 noni le proporzioni cambiano parecchio e vedete tutto un po' compresso perdendo un po' le dimensioni nell'asse y cioè verticalmente quello che comporta questo è che voi prendete i goggles 16 noni e per adattarvi ai goggles 16 noni comprate anche cam 16 noni poi passate a fat shark e tutte le cam 16 noni che avete sono distorte sui fat shark che principalmente sono quattro terzi soprattutto perché quattro terzi è la misura che viene scelta praticamente da tutti quando si arriva ad un certo livello perché ci dà più fove verticale che aiuta a gestire meglio la velocità e rende più facile la guida almeno secondo il mio punto di vista quindi proporzione dello schermo secondo me migliore rispetto alle altre opzioni poi rimangono le feature fondamentali che sono un DVR secondo me per i principianti è ancora più importante che per uno che vola da parecchio tempo perché il DVR vi permette di rivedere subito il filmato che è stato registrato nei vostri goggles e se avete perso il modello capire un po' dove può essere andato e quali siano state le cause della della perdita o dello schianto l'alimentazione è affidata secondo me purtroppo ad un cavo proprietario in realtà è un cavo che si trova in tantissimi tipi di alimentatori quindi facile da reperire però avrei preferito una micro usb come negli EV800D non della eShin ma rimarchiati da un altro marchio che vi ho segnalato più volte su telegram perché erano un prezzo a fare purtroppo ora è difficile trovarli ha l'autoricerca per i canali quindi potete fare la ricerca automatica per trovare il segnale del vostro drone io lo sconsiglio perché sia qui che su Fatshark o su qualsiasi goggle se fate la ricerca automatica spesso non prende il canale giusto ma uno immediatamente vicino e questo comporta che il range diminuisce di molto però a differenza di molti box di questo tipo vi permette anche di fare la ricerca manuale quindi se voi sapete il canale che state utilizzando andate a sceglierlo manualmente e siete sicuri che non c'è pericolo di sbagliare hanno una batteria integrata molto comoda secondo me perché come vi dicevo si si ricarica con un cavo proprietario ma via usb quindi potete collegarlo ad un power bank per volare parecchio tempo e la batteria integrata vi evita di avere altri pacchi batterie appesi alla testa o in tasca è molto comodo vorrei che anche i Fatshark avessero una batteria integrata con la possibilità di alimentarli via cavo solo quando si scarica ora vi mostro cosa è incluso nella confezione e soprattutto vi mostro il menu che potete vedere all'interno dei goggles con le varie opzioni per capire quali sono le possibilità che vi danno a livello di configurazione dopo averli provati comunque posso dirvi già che per chi cerca un google a basso costo questi sono le opzioni che mi piace di più al momento li trovate spesso attorno ai 70 euro c'è di solito qualche codice sconto e li ho segnalati più volte sempre nel canale telegram e quindi per iniziare secondo me vanno bene e ora vediamo la busta degli accessori dove trovate il cavo per la ricarica vedete con questo tipo di spinotto e usb dall'altra parte che quindi potete collegare ad un power bank o al caricabatterie del telefono poi abbiamo due antenne una direzionale qualità ovviamente abbastanza bassa ma è già un bene che vi diano le due antenne corrette invece delle due lineari come ad esempio erano incluse nei evicento con queste due antenne potete comunque volare all'inizio e poi magari prendere una direzionale migliore quando ne sentite la necessità per la omnidirezionale invece questa è un'antenna che è stata usata anche in altri goggles e che ho testato anche su modelli è un'antenna con sei lobby se non sbaglio avevo visto delle foto di qualcuno che l'ha aperta ma comunque indipendentemente da questo è un'antenna che funziona molto bene che consiglio anche a chi vuole un'antenna decente ve la lascio linkata nella descrizione abbiamo un caricabatterie usb che purtroppo ha la spina cinese come vedete però un caricabatterie usb da smartphone sicuramente lo avete e quindi questo non vi servirà più di tanto in ogni caso potete sempre prendere un adattatore costano circa un euro di solito e adattarlo alla presa italiana infine abbiamo il cavetto av a jack e sostanzialmente questo cavo vi permette di collegare un feed video ai goggles e quindi utilizzare i goggles per vedere filmati o cose del genere vediamo poi esternamente i goggles vedete che qui sopra abbiamo i due connettori per le antenne e poi il tasto per cambiare canale o banda il tasto per il menu per fare la ricerca e tasto accensione che va tenuto premuto per avviare i goggles sotto troviamo tasto search tasto pic rec che vi permette di far partire di viare o fare una foto durante di via e qui abbiamo il cavo per video in oppure per le cuffie se volate con l'audio inoltre qui il foro per la micro sd dove ho inserito una sd per provare il dvr e qui il connettore dell'alimentazione ora li accendo e vi mostro cosa si vede all'interno dello schermo vedete qui lo schermo dei goggles e vedete che sto inquadrando con il mio tiny hook vedete se lo muovo lo sto vedendo è a nirvana e la mia scrivania vedete che lo sd è ben leggibile considerate che comunque la messa a fuoco che posso ottenere con il telefono non può essere chissà cosa proviamo a zoomare un attimo magari e vedete che in alto a sinistra vi dà i dati sul canale che state utilizzando io sto utilizzando a6 e in alto a destra vi dice la batteria residua per i goggles con il tasto src menu potete scegliere di usare solo l'antenna a solo l'antenna b o diversity ora siamo in vedete in alto a destra rfa premo andiamo in av dove avremo un ingresso video se usate una ricevente esterna o se guardate un video per esempio da un pc se avete un pc che permette di uscire in analogico poi abbiamo diversity e qui dobbiamo andare a scegliere il canale e il canale di io voglio andare in a poi tengo premuto e vado a scegliere il canale a6 ed ecco che siamo correttamente in diversity a6 quindi con diversity usiamo entrambe le antenne e questo ci permette di usare sempre l'antenna a quella ricezione migliore è importante sapere che si può utilizzare solo un'antenna solo l'altra o entrambe perché se non sapete che funziona così rischiate di utilizzare sempre solo un'antenna e avere quindi un range inferiore rispetto a quello che vi può permettere questo visore se tengo premuto vedete che compaiono i menu con le impostazioni posso entrare nel dvr e andare a vedere i file che ho registrato oppure con il tasto centrale esco se tengo premuto di nuovo poi con il tasto menu posso scendere con l'altro tasto confermare vedete potete regolare le impostazioni di colore contrasto e luminosità sharpness la rotazione non molto utile perché immagino che volerete sempre con l'orientamento corretto e possiamo andare a spegnere lo sd cioè eliminare dagli angoli in alto a destra e in alto a sinistra i dati sul canale che stiamo utilizzando e infine cambiare il linguaggio vi mostra alla fine il nome del modello non molto utile ma ok quindi non c'è molto altro da dire se non che li ho provati in campo e come range mi hanno dato un range sufficiente ovviamente non vanno a contrastare i moduli da 100 euro che si vanno a montare su faccia da 400 ma hanno una ricezione decente e sicuramente usabile inoltre con delle antenne di qualità superiore come le prodrom pl che utilizzo io il range ovviamente aumenta è un diversity che sembra essere un vero diversity e non due antenne sulla stessa ricevente e quindi anche di un buon plus per questo modello se vi è piaciuto questo google trovate nella descrizione il link dove acquistarlo e il link al mio canale telegram dove metterò codici sconto per acquistarlo al miglior prezzo possibile spero che questo video vi sia stato d'aiuto se lo è stato iscrivetevi al canale lasciate un mi piace e cliccate sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video grazie per e ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao